Condannati gli operatori dell'ospizio di Acerno, dove si maltrattavano gli anziani ospiti. Per 11 imputati che avevano scelto il rito abbreviato è arrivata la sentenza del GUP Pietro Indinnimeo. Le pene tra i 20 e i 12 mesi di reclusione, di sicuro più basse rispetto alla richiesta del sostituto procuratore Francesca Fittipaldi. Il PM aveva chiesto nella requisitoria 5 anni e 4 mesi di reclusione. Al termine dell'udienza preliminare il GUP ha condannato ad un anno e 8 mesi 8 operatori, ad un anno e 4 mesi ad un'operatrice ed infine altre due colleghe hanno avuto la pena di un anno di reclusione. Sospensione condizionale della pena per tutti. Il giudice inoltre ha condannato gli 11 imputati al risarcimento del danno alle costitute parti civili da liquidarsi in separato giudizio.